Buongiorno da Edo, naturalmente WWDC, naturalmente Worldwide Developer Conference, quindi naturalmente Apple. Potrei dirvi che ieri non ho fatto la puntata perché volevo aspettare un altro giorno per prendere ancora più informazioni, ragionare, riassumere e poi darvi oggi una puntata sul WWDC ancora più completa, ancora più piena. In realtà, no, ieri non ce l'ho fatto, non ce l'ho fatto, no. Però effettivamente oggi, visto che abbiamo avuto un giorno in più, ci ho raccolto un po' più di materiale, un po' più di cose, quindi spero che questo piccolo recap che farò con un po' di informazioni su WWDC sia ancora più meglio, ancora più gradito. Ma in intro, mi prendo pochissimi minuti, giusto per celebrare, per raccontarvi, per celebrare la figura di una persona storica del mondo informatico, storica nel senso che ha fatto la storia e ha un po' contribuito a creare l'informatica che abbiamo oggi, che purtroppo è scomparsa recentemente. Qualche giorno fa, infatti, è scomparsa Lynn Conway, che è una persona che proprio ha, con la sua ricerca e proprio con il suo ingegno e il suo intelletto, ha creato un qualcosa che poi è diventato seminale nell'industria IT. Vi faccio intanto vedere una sua immagine, visto che magari così la potete riconoscere meglio. Eccola qua da Wikipedia, Lynn Conway. Eccolo, Lynn Ann Conway, il nome completo, è nata nel 1938 e è morta appunto nel 2024, ha 86 anni. Eccola qua, Lynn Conway. E ve la faccio vedere e ve ne parlo perché, in quanto peraltro donna, è una figura che nel mondo della storia dell'informatica passa abbastanza sotto traccia, no? E questo purtroppo è una cosa di cui dobbiamo renderci conto. La storia dell'informatica è fatta anche da un sacco di donne che hanno contribuito a ricerca, innovazioni, a cose proprio fondative, che però passano un po' in secondo piano e questo è oggettivo. Ebbene, Lynn Conway è stata quella che ha creato il sistema di design di chip che poi è stato usato nei design successivi. Sto parlando di una ricerca del 1978 che si chiama VLSI, che ha scritto insieme a Carver Mead. Ma il nome di Carver Mead, professore maschio, ha un po' messo in secondo piano quello di Lynn Conway, diciamo. VLSI sta per Very Large Scale Integration ed è una tecnica di design dei chip che consente a, non dico a chiunque, ma comunque a progettisti al di fuori delle fabbriche di chip, quindi nelle università, nei centri di ricerca, in altre aziende, di disegnare e progettare i chip. Eravamo in un'epoca in cui la possibilità di creare chip era data soltanto alle grandi fonderie come Intel o altre poche, che potevano appunto avere i mezzi per farlo, anche perché la complessità aumentava di anno in anno. Sapete che per la legge di Moore il numero di transistor su un chip raddoppiava anno dopo anno. Poi ha un po' rallentato, ha raddoppiato ogni due anni, ma insomma il numero di transistor aumentava continuamente, quindi per i designer riuscire a infilare tutti quei transistor sui chip era sempre più complesso. Con questa tecnica e con il libro che poi uscì, mi pare Introduction to VLSI, e poi con le lezioni che lei tenne all'università, ecco, tutti furono legati di capire come creare un design di questi chip, attraverso proprio semplici tecniche che avevano adesso a disposizione, e quindi questo democraticizzò, in un certo senso, il design dei chip. E molte piccole aziende poi nacquero e prosperarono proprio su queste tecniche, quindi il boom dell'informatica, della Silicon Valley, che poi avvenne negli anni Ottanta e successivamente, è in parte dovuto anche a questa innovazione, che magari si ricorda poco, però è importante ricordarlo, no? Ed è importante ricordare che questo è stato dovuto proprio grazie alla tecnica conosciuta come Mead Conway, e qua ci concentriamo in particolare su Lean Conway, perché appunto ora è recentemente scomparsa, e poi perché merita di essere ricordata sempre di più, perché in quanto donna è un pochino, ecco, passa un pochino sotto traccia. Ma vi ho tenuto sotto traccia anche un'altra informazione, che nella sua storia però è rilevante, e quindi ora ve la sottopongo. Lean Conway era una donna transgender, lei ha fatto la sua transizione negli anni Sessanta, quando lavorava in IBM, a quell'epoca le tecniche mediche di transizione erano pionieristiche, lei se ne interessò perché nella sua vita da maschio, la sua vita precedente, lei soffriva di forti depressioni, era proprio un esempio scientifico di disforia di genere. Ebbene, quando lei finalmente completò il suo processo di transizione, sperava di continuare, di poter continuare a lavorare in IBM, ebbene invece IBM decise di licenziarla, proprio a causa della sua transizione. E pensate che dopo lei fortunatamente riuscì a trovare ancora lavoro nella Silicon Valley, poi lavorò ai laboratori Xerox Spark, insomma poi è bella carriera che abbiamo visto, con quelle innovazioni che poi la portarono anche a insegnare e al suo famoso libro, e ottenne una lunghissima lista di riconoscimenti, premi accademici, insomma il mondo dell'informatica, il mondo della ricerca scientifica, l'ha riconosciuta e le deve molto. Ma le due cose incredibili della storia è che tutte queste riconoscimenti, gran parte di questi riconoscimenti del mondo scientifico, del mondo accademico, sono stati fatti alla donna Lin Conway, senza sapere della sua storia di transizione, che lei infatti dichiarò rese pubblica nel 1999, quando si ritirò dall'insegnamento, e poi che IBM chiese scusa per il fatto di averla licenziata negli anni 60, però solo nel 2020, cioè praticamente l'altro ieri. Insomma, naturalmente la storia di Lin Conway meriterebbe ancora ulteriori approfondimenti, sia dal punto di vista personale che da quello scientifico, accademico, dell'innovazione che ha portato alla storia dell'informatica. Io volevo soltanto citarvela, dedicare anche a lei questa puntata, farvi conoscere questo personaggio, grazie al quale forse oggi abbiamo il mercato IT che conosciamo, con i vari produttori di chip, gli smartphone, i personal computer, e tutto quello che sappiamo. Quindi, grazie a Lin Conway, per ora chiudiamo qua con questa introduzione, e andiamo sulla parte news, un po' approfondita, sul WWDC di Apple. Eccoci qua, naturalmente quando devo fare questi recapponi di questi eventi di presentazioni, mi affido spesso a The Verge che fa le sue listone con gli annunci principali, ecco, prendo anche questa volta, WWDC 2024, gli 13 annunci più grandi. Noi in realtà ne prendiamo qualcuno in meno di 13, perché non ci interessano proprio tutti. Ma partiamo da quello di cui si è discusso di più, quindi il primo sistema AI di Apple integrato nei suoi device. Allora, parto un po' con la lettura di questo recappone. Con quasi tutte le big tech che sono entrate nell'AI boom, non è una sorpresa che Apple abbia lanciato il suo sistema AI, che ha chiamato Apple Intelligence, peraltro, sfruttando le lettere AI, ma non è più Artificial Intelligence, che, peraltro, aveva detto anni fa di non volere utilizzare mai, ecco, invece, la utilizza, ma chiamandola Apple Intelligence. Quindi è un sistema di Personal Intelligence, come l'hanno definito, che mette i potenti modelli generativi al core di iPhone, iPad e Mac, poi vedremo come. Quindi questo abilita una serie di nuove capacità proprio nei sistemi nativi di Apple, come la capacità di generare immagini e di fare sintesi di testi. Ecco, una delle cose interessanti è che Apple Intelligence arriva con una grande enfasi sulla security, perché il sistema deciderà automaticamente se usare i processori proprio sul device, quindi i large language model in locale, oppure contattare i server di Apple, che vengono chiamati Private Cloud Computing, e quindi poi abilitano potenza ulteriore per rispondere alle richieste dell'utente. Questo sistema comunque sarà disponibile gratuitamente, con gli aggiornamenti di iOS, iPadOS e Apple, ma sui device modile soltanto a partire da iPhone 15 Pro, quindi soltanto il modello Pro dell'ultima linea di iPhone avrà queste capacità. Poi, sugli ultimi modelli di iPad e Mac, con il chip M1, quindi almeno con il chip M1. L'AI poi entra anche in Siri finalmente, naturalmente è una cosa attesa da molti, quindi l'upgrade a questo Voice Assistant, ora sarà che è più integrato, molto più integrato dentro iPhone, quindi appare come una luce pulsante sulla cornice del device, e poi dà più controlli sulle app, permettendo di chiedere all'assistente di trovare cose particolari all'interno di app, come le email per esempio, oppure come le foto, cercare nelle foto. Ecco, Apple in questo caso si appoggia agli LLM per far capire meglio a Siri il contesto della domanda e poi per ritrovare appunto i dati, per fornire le risposte. A questo si aggiunge anche il collegamento con CiaGPT, che sarà in questo caso integrato dentro a Siri con un accordo proprio particolare di partnership fatto con OpenAI. Quindi con questa nuova integrazione, Siri sarà in grado di determinare automaticamente se la risposta alla domanda dovrà essere fornita sfruttando gli LLM in locale oppure contattando CiaGPT appunto. A quel punto richiederà all'utente un permesso prima di inviare la richiesta a CiaGPT e a quel punto chiederà un permesso all'utente per inviare la sua richiesta a CiaGPT. Questa integrazione con CiaGPT sarà disponibile gratuitamente per chi ha Siri senza dover creare un account OpenAI. Ah, peraltro anche in questo caso Apple ha tranquillizzato gli utenti dicendo che sì, c'è un accordo con OpenAI, i dati verranno mandati a CiaGPT ma comunque non saranno memorizzati nei dataset di OpenAI, tutti verranno cancellati e quindi la privacy comunque rimane al centro. Anzi, guardate qua sul sito di OpenAI trovate anche l'accordo, cioè il blog post celebrativo del partnership OpenAI Apple, eccola qua, quindi annunciano la partnership per integrare CiaGPT dentro l'esperienza Apple e c'è questo statement di Sam Altman che dice siamo eccitati di fare questa partnership con Apple per portare CiaGPT ai loro utenti in un nuovo modo. Apple condivide il nostro commitment alla sicurezza, all'innovazione e questa partnership si allinea con la mission di OpenAI di rendere l'AI accessibile a tutti, eccetera. Completo la parte AI che dopo la approfondiamo un po', ecco arrivano nuove feature AI in giro per altre app di iOS, per esempio la possibilità di fare proprio il sommario delle email che si ricevono, anche di generare le risposte, anche di cambiare gli stili dei testi, poi c'è questa nuova feature Genmoji che permetterà di generare emoji automatiche, cioè automatiche insomma con l'AI, semplicemente dandogli un prompt, poi c'è un nuovo AI Image Generator chiamato Image Playground, quindi Apple ha creato anche questo Diffusion Model per creare immagini, poi c'è l'AI anche nella Photos, nell'app Photo, con la possibilità di fare ricerche sulle foto in linguaggio naturale e anche alcune abilità come quello di cancellare il background, come il Magic Razer di Google, e poi ci sono trascrizioni dell'audio, sempre grazie all'AI, si può anche registrare le telefonate, quindi puoi fare trascrizioni delle telefonate, oppure dell'audio delle note, ecco, con l'AI, quindi insomma un po' di integrazioni AI sparse per l'ecosistema di app di Apple. Allora, prima di passare alla seconda parte degli annunci del WWDC, rimango sui dettagli su Apple Intelligence, prendendo un articolo, un articolone in realtà molto lungo e molto dettagliato, che ha scritto D-Day, che trovate su D-Day, a firma Roberto Pezzali. Vi consiglio di leggere questo articolo, adesso io vi leggerò qualche estratto, ma non posso leggere tutto perché è molto lungo, si intitola Tutto quello che devi sapere su Apple Intelligence, lo trovate appunto su dday.it. Vi leggo dei pezzi. Da tempo molti si stanno chiedendo come debba essere inserita l'intelligenza artificiale su uno smartphone o su un computer, perché sia davvero utile, e alla World Wide Developer Conference Apple ha provato a dare la sua risposta. Quella di Apple è una risposta convincente, perché per la prima volta non ci troviamo davanti ad alcune funzioni gettate nella mischia solo per poter dire abbiamo l'IA sul dispositivo, ma è una piattaforma che abbraccia tutto l'ecosistema, integrandosi perfettamente non solo con le app Apple, ma anche con le app di terze parti. Apple ha fatto quello che tutti si aspettavano e quello che solo Apple può fare, sfruttare la sinergia tra hardware e software per integrare l'intelligenza artificiale a livello di sistema, ma soprattutto far leva sulla fiducia che in questi anni ha installato quegli utenti. Naturalmente il tema della fiducia è fondamentale, perché con un sistema di questo tipo l'utente deve fidarsi che tutti i dati che manda a Apple, o in questo caso a Ivendo, insomma, siano sicuri. L'architettura sviluppata a copertino è complessa e non poteva essere altrimenti, perché non è facile creare una piattaforma IA che possa essere potente, intuitiva e capace di capire tutte le esigenze di un utente accedendo quindi ai suoi dati e al tempo stesso mantenere l'attenzione fissa su quell'elemento che in casa Apple è sacro, ovvero la privacy e la tutela dei dati degli utenti. La chiave sta tutta qui. Un'intelligenza artificiale personale che possa quindi lavorare come un perfetto assistente funziona solo se si conosce bene. E oggi se chiediamo a molti utenti a quale delle grandi aziende di tecnologie affiderebbero i loro dati sapendo che non vengono condivisi con altri, la risposta probabilmente è Apple. Adesso io non so se la risposta per tutti sarebbe Apple, però in effetti il commitment di Apple per la sicurezza e per la privacy è sempre quello, è sempre stato quello e in questi anni non abbiamo avuto grossi segnali ecco che questa mission sia venuta meno e quindi possiamo dire effettivamente che questa visione di mercato di Apple per ora viene rispettata. Salto un po' di contenuti e vado a parlare un po' di come funziona un pochino più nel dettaglio Apple Intelligence. Allora, questo funzionerà su tutti i Mac con Apple Silicon partendo da M1, sugli iPad con i processori della linea M quindi sugli ARM e solo sugli iPhone con il processore A17 Pro quindi iPhone 15 Pro e Pro Max. Questo più che altro non è una questione di processore probabilmente ritiene di dei ma di RAM. Infatti a Apple Intelligence servono almeno 8 GB di RAM sul dispositivo e oggi 8 GB si trovano solo a partire dall'iPhone 15 Pro. Ecco quindi che poi si parla dell'integrazione tra LLM locale e LLM remoto. I processori degli iPhone sono potenti ma non sono così potenti e veloci da poter gestire richieste articolate e lunghe. Ecco perché Apple è stata costretta a sposare un approccio ibrido che prevede anche l'utilizzo del cloud. Questa è una novità per l'azienda che ha sempre detto che tutto quello che c'è su iPhone resta su iPhone. Però attenzione, è stato fatto in modo particolare. Perché Apple Intelligence è diversa da quanto abbiamo visto fino ad oggi? Beh per capirlo bisogna chiedersi, secondo Roberto Pezzali, se senza sapere nulla dell'utente quante funzioni tra quelle offerte dal Pixel AI di Google e dal Galaxy AI di Samsung ecco quante di queste sarebbero ugualmente accessibili? E la risposta probabilmente è tutte. Infatti sono funzioni che usano sì l'intelligenza artificiale come il sommario dei testi o il Magic Razer ma la usano slegata dal contesto e soprattutto dalle abitudini della persona che utilizza abitualmente il telefono. Ora non c'è nessuno naturalmente che ci conosce meglio del nostro smartphone. Apple insomma conta proprio su questo. E poi Apple ha un ulteriore vantaggio rispetto a che un corrente ci dice Roberto Pezzali ed è quello che può creare non solo l'hardware ma anche tutti i framework e software che poi diventano la base sulla quale gli sviluppatori creano le loro applicazioni. Naturalmente è la stessa cosa che può fare Google però un vendor di terze parti come Samsung deve fare i conti anche con gli SDK proprio di Google quindi non mantiene il controllo sull'intera catena, sull'intera supply chain o dall'hardware fino all'applicazione. Proseguo nella lettura. Sfruttando questo principio Apple Intelligence non è legata ad una singola app come può essere lo co-pilot su Office ma viene resa disponibile automaticamente all'interno di ogni app che usa determinati moduli. I nuovi writing tools ad esempio sono integrati a livello di sistema e permettono agli utenti di rielaborare, revisionare e sintetizzare i testi in ogni applicazione nella quale si è presente una maschera per rimettere testo una maschera maschera è un termine che non sentivo da un po' comunque una maschera per rimettere testo e vale per notte come per Outlook o Gmail. Poi salta un po' di contenuti Apple ha sviluppato internamente anche un diffuser come abbiamo visto quindi un modello IA pensato per generare immagini partendo da altre immagini o da prompt testuali e poi qui ci sono un po' di dettagli tecnici sui modelli di Apple perché Apple Intelligence è un prodotto Apple ci dice l'articolo e non usa CiaGPT come molti possono pensare leggendo qualche titolo un po' affrettato perché naturalmente si è parlato molto di questa partnership Apple OpenAI cosa che rischia di lasciare un po' all'ombra invece il lavoro di Apple sui propri modelli infatti ci sono almeno 5 modelli ci sono 2 modelli per la manipolazione del linguaggio quindi il Large Language Model che vengono identificati come On-Device Foundation Model e Server Foundation Model poi c'è il diffuser per la generazione delle immagini e poi c'è un modello specifico per la traduzione linguistica e un modello per il coding che viene usato all'interno di Xcode Madonna, Xcode, brrrr Apple ha pubblicato un lungo paper offrendo alcuni dettagli sui primi due modelli sappiamo così che On-Device Foundation Model ha 3 miliardi di parametri quindi è uno Small Language Model come vengono definiti è pensato per essere eseguito dal dispositivo sfruttando il Neural Engine, la CPU e GPU grazie a Metal ML Metal ML è praticamente l'SDK le API Metal vengono definite Metal le API di Apple mentre il secondo è un modello di grandi dimensioni per il quale Apple non specifica il numero di parametri che gira sull'infrastruttura Private Cloud Compute i modelli sono stati allenati usando la libreria AXLearn di Apple ne abbiamo parlato, vi ricordate? rilasciata lo scorso anno come progetto open source e come base dati sono stati usati i dati ricavati dai web crawler di Apple non si sa bene dove e come ma insomma quindi bot che scansionano i siti internet presenti in rete oltre a una serie di banche dati per le quali sono stati fatti accordi di licenza Apple specifica che non sono stati utilizzati e non verranno mai utilizzati dati personali dagli utenti per l'addestramento dei modelli ora poi l'articolo che prosegue con un sacco di analisi tecniche sui modelli e anche i benchmark di questi modelli rispetto ad altri io ve li lascio approfondire se volete andate voi a vederveli passo direttamente alla nota riguardo al Private Cloud di Apple questo che è molto interessante il rapporto tra il modello in locale e il modello invece in cloud allora questo Private Cloud è effettivamente server in remoto però devono sottostare tutta una serie di regole di security che Apple ha impostato sia per la produzione di queste macchine di queste server che per la messa a terra insomma per il collegamento per l'esecuzione di questi server e del loro software che poi anche per il collegamento di rete quindi tra il device e i Private Cloud quindi vediamo un po' durante la produzione qui dice l'articolo quindi parliamo proprio della produzione dei pezzi dell'hardware durante questa produzione Apple effettua la scansione ad alta risoluzione di ogni componente presente sulle motherboard dei nodi Private Cloud Computer nodi non si capisce bene se nodi si riferisca a singoli server o a unità di un cluster non si sa bene comunque nodi Private Cloud Computing prima che ogni server venga sigillato e spedito quando il server arriva al data center viene riaperto, rianalizzato e viene fatta una nuova validazione per evitare che qualcuno nella fase di trasporto possa aver manomesso il sistema quindi qua vedete si parla proprio di supply chain security ma classica, tradizionale, quella fisica spostiamo roba da un punto all'altro in ogni server viene poi generato un certificato che deve essere validato anche dal client ogni volta che manda una richiesta e rispetto a tutti gli altri nodi server in cloud la comunicazione è criptata end to end e soprattutto vengono inviate al server solo i dati che servono per una singola richiesta che potrebbe essere anche la porzione di una richiesta più complessa dove una parte viene gestita sul dispositivo e una parte in cloud come abbiamo visto e questo lo decide Apple stesso lo decide il device quando una richiesta è troppo complessa per essere soddisfatta ecco che il device decide di interrogare il cloud non è chiaro dalle ipotesi che si sono fatte dalle domande anche che si sono fatte a Apple non è chiaro se il processo di richiesta al cloud verrà chiesto all'utente cioè sarà opt-in oppure sarà comunque comunicato in qualche modo in modo trasparente all'utente o se semplicemente verrà fatto dal device senza comunicarlo all'utente questo ancora non è stato ben chiarito ma insomma poi lo vedremo ora i dati spiega Apple restano sulla memoria del dispositivo solo nel momento in cui vengono processati e poi il thread che ha lavorato la richiesta viene cancellato per far posto a un nuovo processo qui stiamo parlando dei dati naturalmente sul server sui quali apparentemente non ci sono dischi non c'è log non c'è nulla che possa portare a un qualsiasi salvataggio dei dati nemmeno l'amministratore di sistema può risalire alle richieste e poi praticamente ogni server si riavvia e aggiorna le chiavi cancella totalmente lo storage dove risiede il sistema operativo e riparte da zero come un nodo nuovo insomma Apple certifica che l'immagine del sistema operativo che viene eseguita da ogni singolo server sia quella originale e la validazione viene fatta anche dagli iPhone o dai Mac ogni volta che viene fatta una richiesta il dispositivo non invia dati a un server se questo non risponde con una firma autentica i server saranno tutti basati su Apple Silicon non è stato chiarito se verranno usati i processori M cioè della serie M o se sono stati fatti i processori ad hoc non sappiamo nemmeno quanti server saranno questo articolo prosegue poi analizzando l'integrazione con CACPT e la parte SHIP con OpenAI adesso io non vado avanti ma vi consiglio di davvero leggere ripeto il nome dell'articolo perché davvero consiglio la lettura si intitola tutto quello che devi sapere su Apple Intelligence lo trovate su D-Day ora vedete che apparentemente questo sistema pare molto nuovo molto figo e gli investimenti di Apple sulla security e sulla privacy appaiono proprio importanti però naturalmente c'è sempre da un pochino stare attenti lo dice anche Albert Fox Khan che è Executive Director della Surveillance Technology Oversight Project insomma un esperto di privacy la riassumo così io metto sempre in guardia le persone che ogni volta che i tuoi dati escono dal tuo device ecco diventano molto più vulnerabili e un'altra sua dichiarazione più avanti e questa le trovo su un articolo dell'MIT Technology Review dice che giudicando da quello che Apple finora ha detto e anche dai paper che ha fatto uscire questo sistema sembra molto più protettivo e attento alla privacy di tutti gli altri prodotti AI che ci sono oggi ma detto questo rimane sempre la questione che bisogna andare a verificare cioè che la fiducia arriva in seguito a una verifica bisogna prima verificare con mano quindi non possiamo essere sicuri di questi sistemi fino a che dei ricercatori indipendenti non avranno la possibilità di verificare tutto quanto Apple ha promesso che questo succederà ma non ha detto come poi risponderà eventualmente a delle note ecco di questi ricercatori e poi attenzione che stiamo parlando di LLM quindi rimane sempre il tema delle allucinazioni anche in questo caso il tema è stato posto a Tim Cook il quale ha risposto che non può essere 100% sicuro che i sistemi AI di Apple non avranno allucinazioni proprio è un'intervista con il Washington Post in cui ha detto che sì è sicuro è abbastanza sicuro che la qualità delle risposte di Apple Intelligence sarà molto alta ma non può essere sicuro che ci saranno al 100% verificabili e soprattutto che non avranno allucinazioni quindi questa roba comunque è bene sempre ricordarla e per chiudere la parte di Apple AI proprio con delle note tecniche sul Private Cloud Computing vado su The Register che dice che i device quindi i server del Private Cloud Compute sono definiti da Apple stessa come hardware costruiti apposta quindi custom built che però portano tutta la potenza e la sicurezza di Apple Silicon nei data center ora non è chiaro qual è il termine che definisce queste macchine perché non è chiaro quali sono i processori che stanno avendo queste macchine ma Apple dice che usano le stesse tecnologie di sicurezza hardware che sono usate sugli iPhone inclusi Secure Enclave e Secure Boot queste macchine dovrebbero girare un nuovo sistema operativo che Apple ha descritto come un subset rinforzato che sta alla base di iOS e macOS disegnato appositamente per supportare i workload di inferenza degli LLM presentando una superficie di attacco molto molto ridotta questo sistema operativo omette componenti che sono tradizionalmente critici per l'amministrazione di un data center come delle remote shell e dei sistemi di introsprezione e di observability quindi anche la telemetria che di solito è necessaria per gli ingegneri che devono andare a verificare appunto lo stato delle macchine ecco questa è stata minimizzata per offrire soltanto un piccolo e ristretto set di metriche operazionali quindi vedete Apple ha disegnato delle macchine che dovrebbero essere 100% sicure chiuse non aperte nemmeno alla debugging dei propri ingegneri per vendere agli utenti questo modello di privacy totale di sicurezza totale end to end quindi vediamo naturalmente aspettiamo le investigazioni le ricerche indipendenti per capire se queste promesse sono davvero verificate allora nella seconda parte guardiamo un pochino più velocemente tutte le altre cose che hanno presentato che riguardano invece iPhone Mac eccetera allora l'iPhone è ancora più customizzabile con iOS 18 quindi c'è un nuovo control center ancora più personalizzabile per iOS 18 e c'è una modalità ora per mettere le app le icone delle app in modo più libero sugli home screen inoltre permetterà di fare un lock di certe app in pratica permettendo soltanto al possessore del device di sbloccarle quindi anche quando prestate il device alcune app potrebbero essere bloccate insomma vabbè una lock di alcune app poi c'è il supporto a RCS che arriva finalmente sugli iPhone RCS sarebbe il reach communication system qualcosa insomma quel protocollo che consente anche ai messaggi di avere delle interazioni un pochino più complesse le icone le reaction boh vabbè roba roba perché usa le chat nei messaggi vabbè comunque Apple ha confermato che RCS arriva come supporto in iMessage non ci sono ancora tanti altri dettagli inoltre sempre per iMessage arrivano gli SMS via satellite c'è anche una nuova app per gestire le password che è una app stand alone si chiama Passwords naturalmente che appunto permette come se siete già abituati a LastPass o a OnePassword di avere tutte le vostre password in un unico punto permetterà di fare condivisioni con i familiari eccetera eccetera insomma è un'app stand alone che sarà disponibile su tutti gli iOS iPad macOS Vision quindi anche su visore realtà virtuale ma anche su Windows poi e attenzione che questo annuncio ha fatto cantare di gioia a tutti quanti per qualche motivo è arrivata una nuova app calcolatrice su iPad che apparentemente non ce l'aveva e con questa app quindi tutti contentissimi che finalmente potranno fare i conti sul iPad è stata quindi lanciata questa calculator app più di un decennio dopo il suo rilascio e arriva con questa funzione chiamata Math Notes che permette di usare la Apple Pencil proprio per scrivere le cose come se fosse una lavagna o un pezzo di carta insomma scrivere le formule anche formule complesse ha fatto vedere frazioni logaritmi eccetera anche grafici variabili ecco permette di fare tutto questo e poi quando il sistema capisce che deve risolvere qualcosa tipo quando mettete un uguale oppure una frazione eccetera ecco lui vi dà il risultato di quella operazione cosa che ha fatto gridare tutti gli gioia perché naturalmente sono quelle cose che poi si usano per flexare il proprio device ai amici e parenti alla cena di Natale sono cose che in realtà vengono usate mai ah poi su MacOS 15 quindi Sequoia sarà possibile fare un mirroring di iPhone quindi l'iPhone diventa una app all'interno del Mac si vedrà tutto l'iPhone e si potrà usare come se si stesse utilizzando fisicamente quindi si può interagire direttamente con le app vedere le notifiche anche l'audio che l'iPhone va a riprodurre si sentirà nel Mac quindi proprio un mirroring totale e le cose interessanti in realtà erano un po' queste approfondisco un po' di più MacOS Sequoia con un articolo sempre di D-Day Sequoia è la nuova versione di MacOS numero 15 quindi che naturalmente integra tutto Apple Intelligence ma arriva anche con una nuova serie di innovazioni come dicevo la funzionalità forse più interessante riguarda proprio Continuity che è quella suite di servizi che permette a più dispositivi Apple di interagire tra di loro si chiama iPhone Mirroring e consente di controllare da un Mac il proprio iPhone quando questo non è sotto mano sostanzialmente è possibile aprire da Mac la home screen del proprio iPhone senza fili e senza sbloccare fisicamente lo smartphone che si suppone appunto in un'altra stanza o nella borsa o che ne so tramite iPhone Mirroring è possibile accedere a tutte le funzionalità dello smartphone utilizzare le app e riprodurre anche l'audio sul Mac dall'iPhone oltre a ciò le notifiche dall'iPhone diventano disponibili nel centro notifiche del Mac e aprendo una notifica iPhone sul Mac Mirroring lancia direttamente l'app relativa all'interno della replica del telefono sul desktop poi altra funzionalità di iPhone Mirroring c'è la possibilità di interagire con le app su iPhone spostando i dati senza soluzione di continuità dal Mac all'iPhone come se l'app girasse sul Mac un esempio la possibilità di prendere una foto dal Mac e incollarla in un'app su iPhone questo effettivamente è molto figo poi c'è l'app Passwords che abbiamo già visto e altri miglioramenti riguardano la possibilità di disporre e ridimensionare automaticamente le finestre trascinando i bordi vicini stile Windows 11 qualcuno l'ha chiamata Tiling in realtà non è un Tiling è un modo per gestire un po' meglio le finestre sul desktop incollandole magneticamente un po' tra di loro insomma e poi c'è la funzione Highlights su Safari che tramite sempre Machine Learning identifica dati di interesse sulla pagina e poi te li offre via widget link di approfondimento poi arriva la possibilità di modalità di lettura che è stata anche ridisegnata di avere riassunti della pagina e indici dei contenuti per velocizzarne la lettura e il nuovo Mac OS QA sarà rilasciato come al solito in autunno c'è già la developer preview per gli sviluppatori questo era un po' per dare anche un conto di Mac OS QA che naturalmente è stato oggetto del WWDC ma un po' oscurato naturalmente da tutto Apple Intelligence e se vi state chiedendo come avranno reagito gli investitori a tutti questi annunci di Apple beh a quanto pare sono molto contenti infatti c'è stato un nuovo record del valore delle azioni di Apple che sono cresciute del 7% proprio il giorno dopo la presentazione di queste novità quindi una bella crescita e un bel record che tra l'altro porta un po' di ossigeno a Apple dopo che ultimamente i suoi dati di vendita erano un po' deludenti un po' scesi il valore totale era un po' sceso e invece adesso gli analisti dicono che intanto hanno rialzato un po' il valore previsto delle azioni di Apple e dicono che questo porterà in autunno a una nuova ondata di acquisti di iPhone e Mac proprio per utenti interessati all'efficio di Apple Intelligence quindi molto bene per Apple anche a livello finanziario insomma sono tutti molto contenti siamo nella sezione links vi ho già parlato di Link Conway nell'introduzione ma vi voglio lasciare due link appunto su Link Conway e che potete trovare nella descrizione di questo episodio il primo lo trovo sull'Independent un giornale UK britannico si intitola I was completely medically joyful How a trans woman changed computing in the modern world non credo di doverlo tradurre insomma trovate questo articolo sull'Independent vi consiglio di leggerlo un po' un po' la sua storia insomma un po' l'importanza che ha avuto Link Conway ci sono anche delle belle foto qui è con con suo marito qui era a Xerox sì qui è a Xerox Park insomma un articolo e poi questo è il libro ecco Introduction to VLSI i sistemi VLSI ecco vi consiglio questo articolo per insomma 10 minuti di oggi una lettura di oggi per anche un omaggio a Link Conway anche secondo Link ve lo consiglio e lo dedico a lei ed è un articolo che invece trovo sul sito della sua università che la celebra appunto si intitola Thank Link Conway for your cell phone dove appunto si sostiene che le innovazioni di Link Conway hanno poi portato alla industria informatica moderna con appunto i cellulari per esempio con la possibilità di disegnare chip sempre più piccoli che poi sono alla base di cellulari smartphone smartwatch eccetera quindi Thank Link Conway for your cell phone è il secondo link che vi consiglio che vi lascio nella descrizione di oggi oh io la chiudo qui questa puntata è stata molto sofferta per me è stata sicuramente lunga adesso montarla sarà un casino peraltro c'è un caldo porco e io non ho l'aria condizionata accesa adesso e quindi sarà sto soffrendo veramente tanto vabbè comunque spero che sia venuta bene che verrà decente e che l'abbiate apprezzata grazie a tutti quelli che mi hanno seguito grazie a tutti quelli che seguono questo podcastone quasi ogni giorno noi magari ci rivedremo a una prossima puntata altrimenti a qualche prossimo evento peraltro sarò a un evento a Bologna se vi va questo venerdì bene grazie a tutti alla prossima ciao